Esempio dieta per perdere massa grassa. Come si può perdere massa grassa con una dieta facile e rapida? Oggi lo vediamo con i tuoi nutrizionisti preferiti. Ogni giorno sui nostri canali social ci arriva la solita domanda. Mario, Valerio, ma mi date un esempio di una dieta per perdere massa grassa? Mi date la dieta tipo che si deve seguire con dieta flessibile? Mi date la dieta con questa dieta flessibile? Perdonami il gioco di parole. Allora questa domanda è molto complicata come risposta. Perché? Perché con dieta flessibile non esiste una dieta. Bene, se sei nuovo o nuova del nostro canale allora questa cosa ti scoinvolgerà. Ma le migliaia di persone che già hanno risultati strepitosi grazie a dieta flessibile lo sanno bene. Non esiste una dieta adatta per tutti e non esiste una dieta se fai la dieta flessibile. Cos'è il concetto di dieta innanzitutto? Voglio smontarti questo mito comune. Perché? Perché ti permette di capire cosa è realmente la dieta flessibile. La dieta a tutti gli effetti per la maggior parte delle persone è quel foglio di carta che appendono al frigorifero con scritto il cibo che devi mangiare per quella determinata giornata. Magari in un piano settimanale. Quindi lunedì si mangia a colazione tre fette biscottate integrali con la marmellata, quattro semi di chia e una pesca. A pranzo mangerai 100 grammi di pasta col pomodoro e una fettina di prosciutto cotto. Blah blah blah. Probabilmente se stai guardando questo video ne conosci a centinaia di diete che hai fatto, hai seguito e che non ti hanno dato mai risultati. Quindi una dieta tipica per perdere massa grassa ti diranno un po' di tutto. Ti diranno che c'è la dieta che puoi fare low carb, la dieta che puoi fare low fat, quindi con bassi carboidrati o con bassi grassi e ti daranno un piano simile. Ma la realtà dei fatti è che un piano dietetico fatto in questo modo non è altro che un insieme di cibi combinati assieme per darti un totale calorico e un totale di carboidrati, grassi e proteine che consumerai durante la giornata. Quindi perché nella dieta flessibile non c'è una dieta? Perché la dieta te la crei tu. Ogni singolo giorno invece di avere già un piano alimentare pronto, con il sistema che adesso ti spiegherà Valerio, puoi crearti tu la tua dieta quotidiana e quindi perdere massa grassa e ottenere risultati senza dover stare a quelle regole stupide che qualcuno ti impone, che ti dice di mangiare il pesce spada quel giorno, ma tu fai tutto il giro della città e non riesci a trovarlo. Quindi totalizzati carboidrati, grassi e proteine alla tua giornata diventi tu il nutrizionista di te stesso. Infatti il trucco alla base del perdere grasso, del dimagrire è dare al metabolismo quello che gli serve. Quello che serve al tuo metabolismo essenzialmente è, tra parentesi, ognuno di noi ha un metabolismo completamente diverso, per questo le solite dietine, quelle stampate funzionano per tizio, ma magari non funzionano per altre 10.000 persone. Ognuno ha il suo metabolismo e tu devi dargli quello che gli serve. Cosa serve al metabolismo? Servono carboidrati, ognuno nella quantità adatta alle sue attività fisiche, adatta ai suoi livelli ormonali, adatta a quanto è attivo nella giornata, perché è una cosa essere sedentari, che non vuol dire non puoi mangiare carboidrati completamente, puoi mangiarli anche tu, ma ne mangerai una quantità diversa rispetto a chi fa magari un lavoro pesante, sposta pacchi tutto il giorno e magari si allena pure. Hai bisogno della quantità corretta di proteine, le proteine che servono a tenere tonico il tuo corpo, a tenere alto il metabolismo, che servono a mandare avanti le tue cellule, farle lavorare, tenere alto proprio il metabolismo. Ma anche una giusta quantità di grassi, perché i grassi sono fondamentali, sia per le donne che per l'uomo, e abbiamo visto migliaia di volte i danni che causa una dieta completamente senza grassi, perché i grassi sono fondamentali per i tuoi livelli ormonali. Quando elimini completamente i grassi, e questo si vede molto più facilmente purtroppo nelle donne, quando eliminano completamente i grassi iniziano ad avere problemi ormonali, problemi con il ciclo mestruale, problemi con la loro vita, diciamo dal punto di vista ormonale caratterizzante sessuale a 360 gradi, ma anche per l'uomo. I problemi sono gli stessi, ovviamente legati a caratteristiche maschili, ma devi sapere che i grassi regolano proprio il tuo equilibrio di ormoni. E quindi è questo essenzialmente il trucchetto per bruciare grasso. Farlo è facilissimo, è molto più complesso e complicato spiegarlo che farlo, perché per farlo basta scaricare l'app gratuita Dieta Flessibile, che trovi anche nel link qui sotto in descrizione, appena 5 minuti del tuo tempo, inserisci esattamente i cibi che vuoi mangiare, l'app ti dirà quanti carboidrati, quanti grassi e quante proteine stai mangiando per quel determinato cibo. E da lì programmare la tua giornata. E programmarla appunto è fondamentale, perché? Perché il vero segreto per bruciare grasso e non riprenderlo mai più è fare una dieta che ti fa anche mangiare quello che ti pare quando ti pare. Perché? Parliamoci chiaro, tutte le altre diete hanno smesso di funzionare perché all'improvviso ti toglievano completamente carboidrati, dolci, quello che amavi, e poi te ne veniva una voglia pazzesca e basta, mollavi tutto e iniziavi a mangiare solo schifezze, solo dolci, eccetera. Ma pensa a poter inserire quello che ti piace ogni giorno nella tua dieta. Se potessi inserire ogni giorno quello che ti piace nella tua dieta non avresti nemmeno bisogno di chiedere degli esempi di piani per perdere massa grassa, di cercare di aderire e rispettare dei piani assurdi che o magari qualche nutrizionista o purtroppo le riviste ti hanno dato, e cercare di adattare tu la tua vita a questa dieta invece che adattare la dieta alla tua vita come si fa con la dieta flessibile. Quindi come fai a fare questo? Come fai a capire bene quali sono i macronutrienti necessari per ottenere risultati sul tuo corpo? Come fai a capire bene come programmare la tua giornata diciamo senza fare nessun errore perché soprattutto all'inizio bisogna imparare un attimo e diventare il nutrizionista di te stesso? Lo fai grazie ai nostri percorsi e i nostri percorsi sono su selezione grazie al fatto che abbiamo aperto le possibilità di chiedere una telefonata informativa completamente gratuita con uno dei nostri consulenti. Ti aiuterà a definire i tuoi obiettivi e a capire qual è il percorso adatto a te. Quindi per richiederla, prima che termini nei posti ovviamente, clicca il link che trovi al di sotto di questo video, richiedi una chiamata informativa completamente gratuita e programma la tua dieta flessibile per ottenere i risultati migliori di sempre. Siamo sicuri che con questo video ti è passata la voglia di fare tutte quelle dite drastiche e inutili che hai fatto fino a oggi e iniziare finalmente a capire come funziona davvero il tuo metabolismo e come bruciare grasso. Quindi lascia un bel mi piace a questo video, non dividilo con le persone che vuoi aiutare, delle quali puoi far perdere veramente grasso e inizi a trovare anche su tutti gli altri canali perché su tutti i social, youtube, facebook, instagram, tiktok, trovi sempre informazioni differenti che ti aiutano a bruciare il più grasso mangiando i cibi che ami. Da Valerio e da Mario è tutto ci vediamo al prossimo video